Previsione della popolazione per il 2025 da parte di Deagel Il desiderio della depopolazione è stato inciso nella roccia. Il video pubblicato il 1 aprile 2019 a cui accedete attraverso l'indice alfabetico sotto la voce Elite ha portato a termine 9 punti su 10, Guy Stones al minuto 3 e 36, parla proprio di questo. Beh, basta andare qui, perché l'ho fatto, guardate questo, è un video che ho girato nel 2010 quando mi trovavo ad Elberton, Georgia, dove ho filmato il Georgia Guy Stones. Capite cosa sto dicendo? È un monumento in tutte le lingue, compreso il bordo in sanscrito, è un monumento di cui nessuno in assoluto si prende il merito, eppure nessuno si scompiglia. L'ho già detto e lo ripeto, perché hanno preso circa un centinaio di tonnellate di granito, hanno scritto sopra un sacco di cose, hanno inciso un mucchio di parole, hanno inserito un telescopio astronomico che punta alla stella polare, hanno posto sopra un vassoio per adorazione o sacrificio, e scolpito in ogni lingua, compresi i geroglifici cinesi in sanscrito, dove dicono che il mondo ha bisogno di sopprimere 9 persone su 10. E osservate da quanto tempo c'è. Questo monumento è là da oltre 33 anni, e il loro intento è completamente allo scoperto, non lo nascondono. Mantieni l'umanità sotto 500 milioni in perenne equilibrio con la natura. Guida saggiamente la riproduzione, migliorando salute e diversità. Unisci l'umanità con una nuova lingua viva. Una nuova lingua viva. Domina passione, fede e tradizione, tutte le cose con la sobria ragione. Proteggi popoli e nazioni con giuste leggi e tribunali imparziali. Lascia che tutte le nazioni si governino internamente e risolvi le dispute esterne in un tribunale mondiale. Evita leggi poco importanti e funzionari inutili. Bilancia i diritti personali con i doveri sociali. Apprezza verità, bellezza e amore, ricercando l'armonia con l'infinito. Non essere un cancro sulla terra. Lascia spazio alla natura. Lascia spazio alla natura. Come vedete, il loro intento è sempre stato incredibilmente chiaro. L'hanno cesellato su un monumento e l'hanno lasciato nel mezzo degli Stati Uniti. Ed oggi è ancora là. Cercate di capire chi c'è dietro questo stratagemma. Non è per niente difficile. Il riscaldamento globale non è vero. Il monumento è stato demolito per motivi di sicurezza il 6 luglio 2022, dopo che un'esplosione di origine dolosa causata da ignoti ne aveva compromesso la stabilità. Tutto questo rende l'idea di una cosa abbastanza chiara, una riduzione del 93,6% della popolazione umana. Un pensiero abbastanza orribile, soprattutto se una cosa del genere dovesse accadere in un breve periodo di tempo. Con questo in mente, rivediamo parte del video che riguarda la previsione della popolazione di Deagal con le previsioni per il 2025, a cui accedete sempre attraverso la pagina web Indice Alfabetico sotto la voce 18 milioni di italiani in meno entro 7 anni, pubblicato il 22 novembre 2018. Prendiamo la nostra bella Italia. Trovate tutte le nazioni del mondo. Tutte! Analizziamoli questi dati. Qui sono riferiti all'anno 2017. Abitanti 62 milioni. Previsione per il 2025 44 milioni. 44 milioni. Ma dove saranno finiti i 18 milioni mancanti? Noi, i nostri figli, i vostri nipoti. Vediamo gli Stati Uniti d'America. Spaventoso! Da 327 milioni del 2017 passeranno a 100 milioni. Che fine hanno fatto i 227 milioni mancanti? E questi numeri non cambiano molto da quelli dello scorso anno dove il confronto era fra il 2013 e il 2025, dove prevedevano di passare dai 316 milioni e 69 milioni nel 2025. Mi viene voglia di emigrare in Russia, dove la previsione resta uguale ai numeri odierni. O in Cina. Non certo in Canada. Previsione da 36 milioni a 26 milioni. E nemmeno in Francia. Da 67 milioni a 39 milioni. Da evitare la Germania, dove si prevede di passare da 81 milioni a 28 milioni. Comunque sia, nel mondo, in tutte le tabelle, la popolazione mondiale passa da 7,4 miliardi a 6,9 miliardi e questo conferma che la popolazione non aumenta, ma diminuisce. Pensateci, gente. Stati Uniti ed Europa, cosa succederà? Le previsioni sono reali? Sono inventate? O si tratta di un'altra operazione psicologica? Dehagar ha attirato l'attenzione nel 2014 per il suo elenco di previsioni di riduzione della popolazione in molti paesi del mondo, con riduzioni molto gravi in alcuni paesi. Gli archivi indicano che il sito web ha iniziato queste previsioni nel 2007. Negli anni 2010, una previsione per il 2025 prevedeva una riduzione da 307 a 264 milioni solo negli Stati Uniti. Nel marzo 2022, Dehagar ha pubblicato altri articoli sulla tecnologia militare e le previsioni sulla riduzione delle popolazioni sono state rimosse. La società Dehagar è un ramo minore dell'intelligence militare statunitense, una delle tante organizzazioni segrete che raccoglie dati per scopi decisionali di alto livello e prepara documenti informativi riservati per agenzie come la National Security Agency, le Nazioni Unite e la Banca Mondiale. È noto, ad esempio, che Dehagar ha contribuito al rapporto Stratfor sulla Corea del Nord. Con questo tipo di pedigree, Dehagar dovrebbe essere visto come un attore legittimo nella comunità dell'intelligence e non semplicemente come una risorsa di disinformazione. Ma se è veramente così, allora si deve presumere che le previsioni sulla popolazione per il 2025, così come le previsioni sulla produzione industriale su base nazionale, siano basati su presupposti strategici condivisi e ben compresi da altri attori della comunità dell'intelligence. Nella descrizione del video vi lascio il link delle previsioni Dehagar salvate su Wayback Machine per il 2025, in particolare per l'Italia. L'immagine che vedete è di Facta News del 25 agosto 2021, dove scrive che si tratta di notizia falsa. E allora devo aggiungere che queste previsioni non sono fatti. Non posso nemmeno affermare che alcuni paesi affronteranno questo o quel calo della popolazione. Ma Dehagar lo ha scritto. Non è più inciso sulla roccia. Ma su Wayback Machine sì.